punto primo non ho mai chiesto di andare via e vorrei che lo sottolineate a caratteri cubitali punto secondo smettete di mettere in mezzo la mia famiglia perché ho letto addirittura l'ultima stamattina che la mia compagna vive a bergamo dove vive ho sempre detto è vero che ho sempre detto che il giorno che mi muoverò da palermo lo farò per avvicinarmi a casa perché sapete benissimo a torino con le mie tre figlie le prime tre figlie quindi nel momento in cui mi muoverò da palermo lo farò per avvicinarmi a casa che può essere domani mattina o che può essere tra un anno e mezzo o che può essere fra tre anni questo non possiamo sapere perché come qualcuno ha detto le vie del mercato sono infinite detto quindi un'altra cosa non sono io che mi metto sul mercato anche perché se potessi provare ad andare al madrid al manchester united o al barcellona il mercato è frutto e qua non voglio fare il fenomeno e non voglio risultare presuntuoso perché non lo sono molto ovviamente delle prestazioni se ogni mercato si parla di sorrentino sono contento è perché vuol dire che sorrentino sta andando bene quindi non mi venite a dire o leggere si deve togliere dal mercato no perché non sono la frutta la verdura che troviamo al mercato e mi sdraio lì davanti perché nel mercato è fatto dalle richieste che ci sono se ci sono determinate richieste probabilmente perché sto giocando e perché probabilmente le cose stanno andando in un certo tipo altro punto importante che nel mese di dicembre ho avuto una chiacchierata con il dottor cardinaletti dove per il secondo anno consecutivo ho accettato alla rimodulazione del contratto l'anno scorso sono stato il primo a firmarlo in questo quest'anno qua sarò stato il quarto il quinto ma solamente per una cosa logistica quindi ho aderito da subito alla proposta della società e allo stesso tempo avendo un contratto per fortuna importante il dottor cardinaletti mi aveva detto che nel caso in cui fossero arrivate delle offerte per il sottoscritto ne avremmo discusso e parlato tranquillamente anche perché un anno e mezzo manca la fine del mio contratto a 36 anni da compiere tra qualche tra due mesi alle mie spalle c'è un portiere forte che ha dieci anni in meno di me e che quindi rappresenta il futuro di questa società è anche normale che la società pensi determinate cose io quello che ho ribadito a cardinaletti e quello che ribadisco come credo la mia filosofia che non faccio la chioccio a nessuno ma non perché io mi senta più forte assolutamente perché purtroppo caratterialmente sono un competitivo e io il fatto di venire ad allenarmi tutti i giorni è come una sfida quotidiana per dimostrare che tutte le domeniche devo essere presente ma soprattutto essere protagonista non ho mai fatto questione di soldi non ho mai fatto questione di categorie quindi il giorno che non starò più bene in serie a o che mi provano di fare la chioccio in serie a non eccetera andrò in serie b andrò in lega pro andrò nei dilettanti perché per me il gioco del calcio va giocato non va guardato ok chiudo chiudo con con un'altra cosa che è poco carino leggere quello che ho letto nella giornata di sabato quindi a meno di 24 ore dalla partita con il cagliari da un sito pseudo sito che è stato diffidato dal mio da non è il mio procuratore gimi fontana comunque da un è collegato all'entourage del mio procuratore che è federico pastorello che io non vedevo l'ora di indossare la maglia del cagliari virgolettato da lui ha neanche 24 ore dalla partita con il cagliari per fortuna che stefano sorrentino e il palermo hanno battuto il cagliari 5 a 0 perché se per disgrazia stefano sorrentino raccoglieva la palla nel sacco per un errore suo o anche per un errore suo si scatenava l'inferno quindi io vi chiedo massima sincerità e massima trasparenza perché tanto dopo i pseudo siti che ci sono siete e sono siete sono spero che non si offenda nessuno tutti quanti collegati quindi come uscita questa notizia ha fatto il giro di tutti quanti vari siti da cagliari di torino milano balermo eccetera eccetera alessio ne è testimone e infatti è stato subito diffidato questo questo sito che ha tolto questa intervista dove ha detto e vabbè ma sai nel mercato se ne dicono tante ce ne inventiamo a 20 neanche a 24 ore da una partita quindi le cose stanno così certo c'è stata e quindi il presidente della società ha deciso di stopparla bene è incedibile basta quindi non c'è nessun altro da dire è incedibile